Hai messo sul gruppo... Ce l'ha messo lui? Che non è poco, è roba! Dai ragazzi! Siamo combinati! No, mi viene un portapallo lì! Tenilo lì, tenilo lì, non far girare! Guarda qui! Non si può e non so. Si può e non lo spiegare dal campo ai minuti! Non si può avanti! Ma come come a chi ha fatto? Non lo fa la tirano, non lo fa la tirano! Bravo, bravo! E' un po' che è venuta! E' un po' che era quello che era l'amore! Sì, però, 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 dirglielo che era di male. Che è la terrenata. Come alla moda. 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 9-0-7. Come alla moda. Come alla moda. Come alla moda. Come allo. Non mi paga lo stipendio. Brava Ricky! Grazie.